Come stai? Sontando il fisioterapista non abbiamo trovato nulla di così grave, certo può darsi pure dovuto al fatto che le tre partite hanno accumulato un po' di stanchezza e mi hanno fatto fermare, però io sono molto fiducioso, aspettiamo il risponso di questo esame e poi valuteremo durante la settimana. Perché l'Arezzo l'ha persa la partita di Viterbo alla fine se tu dovessi individuare una causa più di tutte le altre? Perché è una bella domanda, episodi, dobbiamo dire che comunque abbiamo incontrato una squadra come la Viterbese, agguerrita e forte fisicamente e poi dobbiamo sottovalutare il fatto che hanno un reparto offensivo veramente forte. Come avete visto anche voi domenica la partita si è svolta su un episodio perché comunque loro hanno fatto mezzo di romporta, però dal canto nostro non abbiamo avuto quella facilità di andare a rete come le partite precedenti. Nulla, però dobbiamo essere molto ottimisti perché comunque la squadra ancora c'è e siamo determinati e vogliosi perché comunque dobbiamo raggiungere l'obiettivo che in questo caso è la salvezza. Poi tutto quello che viene dopo ben venga. Dopo la partita con l'Arezzo è successo il caos a Viterbo di missioni in massa, presidente, vicepresidente, direttore sportivo. Tu prima della partita, visto che parlavi con Vignaduzzo, avevi avuto sentore che insomma ci poteva essere un po' di qualche problema. Sì, mi aveva già avvisato lui, mi aveva già detto guarda Roberto non è un'aria tanto per la quale, anzi siamo costretti a giocare perché comunque ci hanno promesso e comunque se facciamo risultato le cose vanno in un certo modo. Però oggi leggo che sul giornale la Viterbese pare che non ci sta più, però nulla. Io mi dispiace perché comunque una piazza blasonata come la Viterbese che ha fatto sempre calcio importante dispiace. Più che altro anche per i compagni perché sono ex giocatori che io conosco e nulla. Io gli do l'augurio più grande perché comunque spero che non sia così perché dispiace veramente. Ti credo solo un'ultima cosa, domenica c'è la Pianese, è una partita che potrebbe lanciare l'Arezzo veramente fuori dal pantano dei play-out. È una settimana molto delicata questa, sei d'accordo? Sì, sicuramente, anche perché veniamo da due risultati negativi tra Coppitali e Campionato. Però come ho detto poc'anzi in sala stampa, ho detto che secondo il mio punto di vista l'approccio della partita di domenica deve essere uguale alle partite precedenti e le partite che faremo poi. Perché comunque qualsiasi partita che noi dobbiamo andare a affrontare è determinante per il nostro cammino. Perché purtroppo la classifica oggi non ci dà ancora salvi. E sicuramente dobbiamo avere un approccio su questa gara con la massima determinazione e convinzione di vincere. Perché comunque, come hai detto tu, magari ci fa respirare un pochino, però ancora la strada è molto lunga. Grazie. Grazie. Grazie.